Allora Avvocato, questa mattina è un tema importante quello che viene affrontato al Vasare di Filline, grazie a una presenza illustre, un tema che purtroppo ha toccato anche il Valdarno qualche volta. Sì, purtroppo sì, ha toccato il Valdarno e lo sta toccando tuttora. Io conosco il procuratore della Repubblica dei Minori, del Tribunale dei Minori, il dottore Antonio San Germano, dall'età di 16-17 anni, abbiamo frequentato il vice insieme e quindi l'ho contattato, gli ho chiesto proprio espressamente, sapendo che lui ha una forte sensibilità per il mondo dei giovani, gli ho chiesto espressamente di venire qui a Vasare a parlare ai giovani, sapendo che questi temi purtroppo sono temi ormai con cui dobbiamo avere a che fare perché in effetti il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, che è peggiorativo rispetto al bullismo vero e proprio che già alla nostra epoca c'era, si sta diffondendo. Tant'è che gli ultimi dati, che credo siano stati confermati anche dal dottor San Germano, lo danno in netta ascesa, purtroppo. Il dottor San Germano ha risposto subito positivamente e quindi siamo riusciti, con il tramite del professor Ribiello e poi con la sensibilità del dottor Papini, a realizzare questo incontro e credo sia importante e lascerà una traccia immagino profonda nei giovani che ascolteranno il dottor San Germano.